Ciao, sono Federico Mecca, socio cofondatore di Pharmacure, start-up di consegna a domicilio di farmaci, operante in molte province italiane. Mi sono da poco laureato in economia e commercio. Ciao, sono Andrea Rolando e sono uno studente della laurea magistrale in economics. Ciao, sono Lucia Bessone, una studentessa della laurea magistrale in economics. Dopo il conseguimento del diploma in ragioneria ho deciso di iscrivermi al corso di laurea triennale in economia e commercio. Ho scelto questo percorso di studi ricercando gli strumenti per comprendere la realtà che ci circonda, non solo riguardo all'oggi, al quotidiano e ai titoli delle rassegne stampa, ma anche riguardo al passato, essendo un appassionato di storia da sempre. Ho scelto la laurea triennale in economia perché volevo un percorso di studi che mi fornisse gli strumenti per comprendere a fondo i fenomeni socio-economici. Non avevo in mente una figura professionale precisa e perciò volevo mantenermi tante porte aperte, seppur in un campo ben delimitato. A posteriori posso dire che è stata una scelta all'altezza delle mie aspettative. Ho avuto una preparazione ampia e approfondita in campo economico, aziendale, matematico-statistico e giuridico. Ho trovato professori estremamente competenti e disponibili che si sono formati nei migliori atenei internazionali e che pubblicano regolarmente nelle più prestigiose riviste accademiche a livello mondiale. Il corso fornisce una preparazione di base in discipline economiche, aziendali, giuridiche, matematico-statistiche e anche storico-sociali, fornendo così strumenti di analisi sia qualitativa che quantitativa. Tale preparazione aiuta dunque a comprendere i meccanismi socio-economici ed analizzarli nella loro completezza, permettendo di comprendere meglio sia la realtà che ci circonda, sia le dinamiche economiche a livello mondiale. Concluso il percorso posso contare su una preparazione ampia e approfondita. Ho potuto dare seguito alla mia passione per la storia con 24 CFU inerenti e l'impianto giuridico che offrono gli esami d'ambito è una stampella indispensabile per qualsiasi iniziativa in ambito economico, finanziario e aziendale. Ho apprezzato particolarmente il percorso di studi, che è flessibile e personalizzabile, ma prevede una solida base quantitativa, fondamentale in campo economico. Infine, la triennale in economia all'Università di Torino offre la possibilità di arricchire il proprio percorso formativo attraverso Soggiorni Erasmus in ottime università europee. Io ho trascorso il secondo semestre del terzo anno a Parigi e ciò mi ha permesso non solo di imparare una nuova lingua, ma anche di entrare in contatto con un ambiente accademico differente e di conoscere persone nuove. Per quanto mi riguarda, ciò che ho appreso teoricamente in ambito universitario l'ho poi applicato nel mio lavoro, in particolar modo i temi del laboratorio di Startup Creation diretto dal professor Dario Peirone. In quel frangente, oltre a entrare in contatto con persone con percorsi accademici differenti, tra cui i miei soci, abbiamo cullato l'idea imprenditoriale, poi cresciuta con la supervisione di Sarrao e Febbronia nel 2-3T di incubatura dell'Università di Torino. Un punto di forza di questo corso di laurea è sicuramente il corpo docente, composto da professori molto competenti che si sono formati nelle più prestigiose università italiane ed estere e che si sono dimostrati sempre disponibili al confronto e alla discussione. Consiglio economia a chi vuole mantenersi molte porti aperte in Italia ma anche all'estero. Ai futuri studenti universitari consiglio di scegliere economia se vogliono capire quali sono i meccanismi che muovono il mondo e da lì tracciare la strada che sentono propria. In bocca al lupo per il vostro percorso. In conclusione posso dire di essere soddisfatta della mia scelta e di essermi sentita adeguatamente preparata per il corso di laurea magistrale che sto frequentando adesso.